Quella che apre il 7 di marzo alla Gamma di Bergamo è la prima mostra personale che una istituzione pubblica italiana dedica al lavoro di Giuseppe Gebellone, un artista che da qualche anno ha scelto Parigi come suo luogo di residenza, come suo luogo di lavoro ma che il pubblico non solamente quello italiano ma anche quello internazionale già conosce per aver partecipato appunto a due edizioni della Biennale di Venezia, un'edizione di documenta oltre che a una serie di importanti mostre collettive internazionali. Per questa mostra Giuseppe Gebellone ha sviluppato tutta una serie di opere inedite in cui il concetto di scultura e le sue possibilità sono ampliate, sono indagate e sono espanse diciamo. A parete troviamo queste grosse presenze totemi che definirei che appunto dove hanno, dove c'è questa relazione con il basso rilievo quindi con questa tecnica che mette in comunicazione la pittura, la scultura, l'architettura, quindi lo spazio della visività con lo spazio della vita, con la bidimensionalità, la tridimensionalità, la narrazione e l'astrazione. Mentre a terra troviamo queste grandi distese di colore, però è un colore abitabile, nel senso che è un colore su cui gli spettatori camminano, in cui necessariamente quindi rallenta il tempo di fruizione della mostra, spezza con la sua morbidezza la geometria dello spazio, che è una geometria molto severa e crea questa forma un po' appunto più morbida, più attutisce spazio, sia il ritmo della visione, sia la percezione quasi fisica, quasi tattile delle forme. Giuseppe Gabellone è un artista che ha una profonda relazione con la storia dell'arte italiana e secondo me questa mostra amplifica ancora di più questo concetto. Se pensiamo a un'arte italiana che è un'arte fatta di presenze quotidiane, di oggetti quotidiani, ma di atmosfere se vogliamo metafisiche o silenziose. Ecco perché quando penso al suo lavoro penso inevitabilmente a tutta quella filone dell'arte italiana che va da De Chirico, passa per Giorgio Morandi e arriva a Fausto Melotti se vogliamo, dove c'è una forte presenza della forma con degli elementi legati alla quotidianità dell'esperienza, ma con un senso di estraneità all'apparenza quotidiana delle cose. Ecco perché Giuseppe Gabellone secondo me è un artista che riesce a rinfrescare, a rendere contemporaneo questo senso di estraneità dal mondo e insieme di esistenza delle cose nel mondo. Tutte le opere a parete in mostra sono appunto state realizzate con la tecnica della fusione, nel senso che alcune superfici che sono state primariamente scolpite dall'artista sono poi state fuse e rese attraverso una serie di materiali diversi, sia la resina che il bronzo che l'alluminio. Esistono all'interno di queste forme come sia dei riferimenti più visivi, come vediamo delle immagini come delle lumache o delle onde, sia delle superfici come quella che potete vedere alle mie spalle che invece sembra molto più astratta. Quindi c'è, come dire, una grossa componente di mistero all'interno di queste superfici, di queste opere che sembrano non narrare ma fermare il tempo o frazioni di esse in qualche cosa che è stato sedimentato e che è come se fosse in un certo senso stato rinvenuto come un reperto archeologico del nostro presente. Ed è questa una dimensione molto importante del lavoro di Giuseppe Chebellone che crea sempre questa sorta di sovrapposizione di cortocircuito dove non è possibile distinguere quella che è la traccia del presente con qualche cosa che invece proviene da un tempo, come dire, che potremmo definire geologico. Grazie. 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 Grazie a tutti.